ciao a tutti e bentornati a crime and comedy il podcast di true crime condotto da due comici e cioè marco champier e clara campi ciao a tutti ciao a tutti eccoci qui questa è la nostra ultima capsule di questa tornata in teoria vediamo cosa succede in teoria in teoria è l'ultima quindi una puntata leggermente più breve delle altre ma sarà comunque molto intensa perché ragazzi oggi entriamo nel mondo della televisione verità detto così suona malissimo vabbè vi parleremo di un talk show mortale sì allora talk show mortale uno viene in mente cose tipo squid game cose del genere invece no stiamo parlando un'altra cosa ma prima di spiegarvi esattamente di cosa parleremo oggi dobbiamo fare gli auguri di compleanno ai nostri patreon con questo entusiasmo allora no tantissimi auguri perché in questi in questi giorni hanno fatto gli anni serenella arsetta tanti auguri eleonora e marco cioè nel senso o eleonora o marco uno dei due che non hanno specificato però noi facciamo gli auguri che valgono per tutti e poi anche Sara che fa 30 anni e facciamo gli auguri sia lei sia ad Anna anche per l'iscrizione facciamo gli auguri per l'iscrizione suona malissimo nel senso Sara tanti auguri e benvenuta sia te che Anna così ha molto più senso sì esatto esatto perché sono nuovi i bristofili auguri a tutte esatto e poi salutiamo i nostri nuovi patreon crime stalker ricordiamo che patron è un sistema in abbonamento per supportare i creator indipendenti quindi noi salutiamo e ringraziamo i nostri patron che stanno producendo crime in comedy e permettendo a tutti di ascoltarselo gratuitamente che mica è cosa da poco no esatto esatto soprattutto quello e quindi tantissime grazie appunto ai nostri nuovi crime stalker che è il livello più alto di patron quindi hanno accesso a tutti i contenuti extra inclusa anche una diretta al mese con noi e quindi salutiamo i nostri nuovi crime stalker che sono la categoria più alta di patron che ha quindi accesso a tutti i contenuti extra e quindi benvenute a elisa natali cine nerd eleonora cipolletta e francesco maria roperto grazie mille ragazzi di essere entrati nella famiglia patron e di supportarci sì grazie mille punto e poi salutiamo un po' dei nostri bristofili che come diciamo sempre sono un po' lo zoccolo duro di Patreon gli bristofili hanno accesso a quasi tutti i contenuti esclusivi tra cui ragazzi una puntata extra ogni mese una puntata a full length sì sì anche ad agosto non abbiamo mai fatto puntate più brevi ad agosto cose va bene mi piace questa precisazione di agosto no no è vero è vero tutti i mesi c'è una puntatona comunque salutiamo appunto i nostri nuovi patron e bristofili cioè cecilia strada sonia geraci giulz non so non so come riprodurre foneticamente le zeta multiple poi garia reggiori Elena Michelino Claudia Ceccherini Gaia Costanza Gagliardi Sara Aduc scusami Sara facci sapere come pronunciarlo spero che una delle due che ho detto sia la pronuncia giusta poi Sara Tomasetti Scaramacai Ilaria Poli Silvia Miau che è ritornata che ho deciso io che si pronuncia così comunque ma è giusto giusto poi Serena Palotti Lindona Panterona che è il mio nuovo nickname preferito Ostretica Marghe Margherita Pace e Sofia Massignan grazie mille grazie benvenuti e benvenute a tutti esatto e ora lanciamoci oggi oggi siamo incerti è una giornata incerta per qualche motivo no ma adesso entriamo nel mood della nostra puntata allora è il 1995 siamo negli Stati Uniti e negli Stati Uniti in questo periodo vanno tantissimo i talk show pomeridiani sì ma tantissimo perché in realtà il talk show è un'arte che si sta perdendo si sta perdendo via ma negli anni 90 era proprio al top opera era la regina della televisione sì dottor phil stava iniziando la sua scalata che ricordiamoci dottor phil è uno spin off di opera sì perché l'alizio faceva i martedì con dottor phil che era un segmento all'interno di opera una volta a settimana opera è la trasmissione che si chiama come la conduttrice lui non è che faceva i segmenti all'interno di opera miniaturizzato dentro no no c'è un segmento nella trasmissione opera è un po' la maria de filippia americana sì no mi sembra un giusto parallelismo e poi c'era ovviamente il jerry springer show e tutti gli show che copiano il jerry springer voi da italiani giustamente potete anche dire clara di che cazzo stai parlando allora il jerry springer show è uno show che ha toccato i livelli più alti che la televisione potrebbe mai toccare secondo me i livelli più alti del trash ovviamente infatti perché appunto invitava queste persone che avevano da chiarirsi su qualche su qualche cosa nello studio e solo per darvi un'idea di che tipo di trasmissione fosse le donne le donne ospiti dovevano togliersi le scarpe prima di salire sul palco perché altrimenti c'era il pericolo che usassero i tacchi a spillo per accecare le altre persone sì quindi è una show in sostanza dove la gente si picchiava sì sì diciamo che quella lì è così trash che a confronto tentation island è tipo una roba per educande una roba del genere ma assolutamente sì infatti al jerry springer facevano cose tipo test di paternità e poi quando lui diceva tu non sei il padre si vedeva il tizio che si metteva a gioire saltare per il paico oppure sei il padre si mettevano a piangere cioè questo tipo di cose oppure magari moglie marito con lei che scopre che lui ha un sacco di amanti allora il jerry jerry springer fa entrare prima la moglie poi le cinque amanti tutte insieme poi tutte cercano di picchiarlo insomma tantissima roba quindi questo era quello che si vedeva in televisione durante i pomeriggi nel 1995 da quattro anni quindi dal 91 tra tutti questi talk show che sono tantissimi non sono neanche in grado di farvi l'elenco completo anche perché negli anni 90 è il periodo in cui negli stati uniti sono arrivati un sacco di canali nuovi cioè noi alla fine eravamo ancora qua con quei sei canali nazionali e poi ne avevamo due locali e questo era quanto potevamo vedere in televisione negli stati uniti in quel periodo hanno iniziato proprio a moltiplicarsi la famosa tv via cavo e tutti i canali quindi ogni canale aveva il suo talk show pomeridiano quindi ce n'erano tantissimi e appunto nel 91 inizia ad esserci un nuovo talk show che si chiama il jenny jones show chi è jenny jones jenny era una comica poi va bella in realtà era anche un'attrice e una batterista ok particolare come cosa e le era stato dato il suo programma in televisione quindi lei l'hanno notata mentre faceva spettacoli comici di stand up e le hanno offerto di condurre questo show giusto ma questi show potevano essere condotti anche da gente il cui nome non cominciasse con la j cioè o devono essere tipo tutti jenny jerry john jonathan jack no 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 è solo un caso c'era anche il montel che inizia con la m sì c'era mori che inizia con la m anche quello quindi no no ce n'erano di tutti i tipi comunque jenny appunto era questa comica che aveva sin da piccola sognato di lavorare in televisione cioè quello era il suo obiettivo principale e lei amava così tanto la televisione che prima di farsi un nome come comica lei aveva partecipato a tutti i quiz show possibili inclusa la ruota della fortuna lei era andata a fare tutte ste cose ma pensa che noi cioè in america fai il comico e poi partecipi a tutte ste trasmissioni alla fine vai a condurre un talk show pomeridiano che guarderanno in tot di persone da noi fai le stesse identiche cose finisci a fare tipo il ministro in effetti comunque il jenny jones show nelle intenzioni doveva essere una sorta di talk show tipo quello che era una volta amici adesso facciamo un po di storia della televisione italiana guardate che cosa mi tiro fuori dalla manica amici di maria de filippi voi sentite questo nome e pensate al talent show con i ballerini cantanti e quelle cose lì non è partito così amici amici negli anni 90 era un vero e proprio talk show dove maria de filippi presentava e c'era questo gruppo di ragazzi penso molto giovani erano ventenni più o meno adesso sì sì nella parte superiore della dell'adolescenza quindi fai conto tra i 17 20 anni sia una roba del genere una fascia d'età così una cosa così e parlavano di vari problemi io perché sono così ferrata in materia perché mia mamma era andata ad amici portandomi dietro quindi io ho conosciuto maria de filippi quando ero una bambina molto piccola e ho questa visione di lei in tuta che fuma una sigaretta dopo l'altra quando abbiamo fatto le prove chiaramente non in trasmissione no certo però sì tra l'altro personaggio gentilissimo veramente mi aveva fatto un'ottima impressione quando ero piccola poi non l'ho più incontrata dopo quella volta comunque il jenny jones era una cosa così però non fa grandi ascolti quindi il primo anno va avanti così parlano dei soliti problemi adolescenziali no queste cose non funziona allora decidono dagli anni successivi di buttarsi molto di più sul trash che invece tira e quindi iniziano a fare un sacco di dissiparietti all'interno della trasmissione dove magari ci sono i makeover che magari c'è la mamma che porta la figlia che è dark dicono goth gli americani però per farci capire tra di noi uso un'altra parola inglese mi sembra giusto quindi magari appunto tutta vestita di nero e così e allora la madre dice ah io vorrei tanto che lei si vestisse meglio e allora la ragazza incazzata nera perché lei ha scelto di essere dark invece si ritrova che le fanno il makeover e la fanno uscire come una cheerleader no? ste robe qua oppure c'erano dei momenti un po' un po' più seri ma molto trash comunque di confronto tra genitori e figli problematici sempre con queste cose qui tipo mia figlia ha 16 anni è incinta dal secondo figlio non sappiamo chi sono i padri queste cose qua e lei dice che sono stati gli alieni penso che abbiano parlato di alieni in qualche puntata ovvio ovvio non lo so faccio coming out non è che io abbia mai guardato il jenny jones show quindi vi riferisco quello che ho trovato nelle ricerche ma comunque sta cosa qui del makeover c'è stata anche in italia per un periodo c'era una trasmissione che faceva io mi ricordo io me lo ricordo perché avevo visto sta puntata in cui facevano il makeover a uno dei due fratelli dei cugini di campagna ah sì sì sai che i cugini di campagna sono due fratelli no uno un po' più grosso e l'altro più più magro e sono tutti e due pettinati con la permanente eccetera a quello più magro aveva fatto il makeover gli avevano tagliati i capelli avevano fatto biondo eccetera quando è uscito che l'altro l'ha visto si è messo a piangere comincia a dire no ma che cazzo hai fatto tu ci hai rovinato e noi abbiamo l'immagine così e tu che ha ragione però è stato un attimo cioè nel senso una roba veramente triste e cioè io mi sono sentito trasportato per la prima volta in vita mia verso i cugini di campagna neanche anima mia mi aveva commosso così come come quel momento lì ma guarda hai ragione perché io ho visto un po' di show di makeover non penso italiani però ne ho visti un po' e ogni volta peggiorano la persona cioè gli tolgono tipo qualsiasi qualsiasi cosa che possa manifestare un minimo di personalità viene assolutamente eliminata subito certo qualsiasi tratto distintivo sì sì così però vabbè comunque ritorniamo al nostro genny johnson show uno di questi siparietti che facevano un tra l'altro un nuovo siparietto c'era da poco si chiamava secret crush cioè la cotta segreta non lo scontro segreto marco mi ha fatto una faccia che pensava fanno schiantare le macchine però senza dirlo a nessuno poi rivelavano no no crash può anche che vuol dire scontro però può anche voler dire cotta in inglese e quindi come funzionava qualcuno magari aveva una cotta segreta per un compagno di studi per un collega di lavoro per il panettiere da cui andava a comprare il pane e però si vergognava dirglielo dal vivo e allora trovava una cosa molto più tranquilla dirglielo in diretta nazionale in televisione e sì ma perché se sei circondato da gente l'altro non può avere reazioni brutte ma infatti è il tema della puntata di oggi ok ok bravo esattamente esattamente quindi arriviamo finalmente al 6 marzo 1995 c'è appunto un siparetto di secret crush entra in studio colui che è stato chiamato dalla sua cotta segreta quindi lui è un po come c'è posta per te no lui non sa chi c'è dall'altra parte e quindi entra jonathan schmitz un ragazzo di 24 anni del michigan jonathan intanto iniziamo a fare una recensione estetica niente di eccezionale ma nel complesso sicuramente un bel ragazzo il classico americano capelli biondini occhi chiari classico così un po un po un matt demon per darvi un un'idea vabbè tanto poi metto le foto su instagram comunque vabbè nel complesso carino ok jonathan si era presentato la trasmissione perché lui si era appena lasciato con la sua fidanzata tra l'altro fidanzata nel senso che aveva fatto la proposta di matrimonio era stata accettata però poi i due si erano lasciati e c'era rimasto molto male evidentemente perché lei ha lasciato lui e quindi lui aveva questa speranza che lei avesse cercato di rincontrarlo andando a questa trasmissione però aveva anche un altro sospetto perché lui aveva una collega di lavoro che secondo lui flirtava sempre con lui quindi ha detto magari a lei è carina andiamo a fare sta cosa anche perché comunque il viaggio per andare agli studios era comunque spesato quindi non è che lui ci perdesse nulla ad andare alla trasmissione quindi lui si presenta sul palco ma questa collega di lavoro effettivamente flirtava con lui o flirtava secondo noi maschi che ci dice cioè voi ci dite ciao a minchia vuole scoppare con me guarda marco questa purtroppo è una parte della storia che resterà sempre avvolta dal mistero però ripeto lui è carino sembra anche simpatico no quindi è possibile sì 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 quindi lui arriva con queste due speranze no ma quando arriva vede sul palco qualcuno che non si aspettava perché sul palco c'è donna che non è quella di beverly hills è una sua vicina di casa quindi dice scusa ma eravamo vicini di casa mi fai venire fino a qua a prendere un aereo e tutto dimmelo no cioè donna e c'è anche insieme a donna il suo migliore amico uomo sì di donna che si chiama uomo no si chiama scott scott amadure che è un barista di 32 anni quindi leggermente più grande degli altri protagonisti di questa storia sia donna sia che poi si direbbe donna però poi fa strano e poi mi prendete in giro per le pronunce quando le pronunco quando le pronuncio corrette comunque sono robe mie comunque sia donna sia scott sul palco sono un po brilli cioè stiamo girando la trasmissione loro sono ubriachi ma perché sono ubriachi perché il produttore li aveva portati a bere prima di farli andare in trasmissione ha detto no abbiamo visto che le trasmissioni vengono meglio se gli ospiti sono un po brilli quindi bevete quello che volete che c'è il conto aperto ma ma sai che io io lo applicherai anche in italia ma proprio ad amici di maria de filipi prima di ballare ma ma io farei bere tutti quanti quando sono abbastanza ciucchi li farei entrare in studio ok andiamo con la trasmissione è un'ottima idea mediaset accogliete questo suggerimento perché lo vorremmo tutti vedere comunque appunto giornata ne entra vede sti due qua che a malapena si reggono in piedi e resta un po spiazzato ok appunto probabilmente come ho ipotizzato io nella sua mente pensa a donna cazzo mi citofonavi siamo vicini di casa cosa mi fai venire fino a qua comunque va lì e abbraccia donna no si fa andare bene la cosa a quel punto jenny la presentatrice jenny jones dice a jonathan scommetto che pensi che la tua cotta segreta sia donna e invece no è scott tutto il pubblico ride perché poi sono gli anni 90 no l'omosessualità è molto meno accettata quindi tutto questo siparietto crea molto più imbarazzo di quello che creerebbe ai giorni nostri tra il pubblico certo sì ok quindi tutte queste risatine del pubblico così jonathan già era spiazzato all'inizio adesso ancora più spiazzato e si vede tantissimo che in imbarazzo si vede tanti ci sono trovate delle clip di questo momento su youtube è veramente tanto in imbarazzo visto che non è però in imbarazzo abbastanza per fare della buona televisione viene fatta partire una clip che lui si vede dove c'è jenny che chiede a scott dici ma tu hai qualche fantasia piccante su jonathan fate conto che questa clip che stanno proiettando è stata girata proprio poco prima che entrasse che entrasse jonathan quindi scott è bello brillo anche nella clip non è che l'hanno girata in un altro momento lui risponde e quindi i freni inibitori sono anche un po più bassi e direi di sì direi di sì lui risponde beh vorrei legarlo alla mia amaca e poi prendere la panna spray e una bottiglia di champagne ora io ho una mente deviata però ho pensato cosa ci vuoi fare con la bottiglia di champagne eh sì infatti non ho pensato però lui intendeva berlo probabilmente ah ok ok sono quasi sicura che intendesse dire berlo però anche cioè ma come ti viene a mente di legare qualcuno ad un'amaca cioè non è una roba sexy all'amaca eh sì è vero effettivamente sì a meno che non lo vuoi legare cioè nel senso fisso all'amaca e poi tipo insalamarlo cioè facendo girare l'amaca riempiendolo di panna mentre gira esatto 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 non è una bella fantasia solo con la testa fuori una specie di bozzolo no sì infatti comunque cioè guardate come stiamo reagendo da scemi io e Marco sì che siamo due persone che viviamo nel 2024 e abbiamo una mente aperta quindi immaginatevi come sta ridacchiando il pubblico del 95 in studio in questo momento certo ok Jonathan cioè vuole sprofondare non sapendo cosa fare anche lui si mette a ridacchiare imbarazzato e fa un'osservazione molto basilare dice eh sono eterosessuale sì io gli avrei detto guarda a prescindere da tutto come cazzo stai l'amaca guarda me ne vado ma infatti noi ridacchiamo per l'amaca non per la io sì cioè quella roba lì assolutamente no però dico già fa ridacchiare la situazione immaginatevi comunque è comunque una situazione omosessuale nel 95 ci aggiungi il carico da 90 in tutto questo ma scusa ma poi come adesso ma anche volendo cioè anche senza panna anche senza champagne anche senza essere legati come si fa a fare all'amore su un'amaca esatto a meno che lui non volesse farci all'amore voleva solo legarlo ah voleva solo non lo so ok ok quello di questo fetish legare le persone all'amaca guarda non ho idea non ho idea comunque questo siparietto poi si chiude tra grandi risate che ridere lui pensava che c'era una ragazza invece c'era un ragazzo wow e vabbè quindi finisce lì e dopo lo show tutti e tre quindi Jonathan Scott Scott e Donna vanno a bere insieme e poi tornano in Michigan qui non sono riuscita a trovare una timeline ma da quello che ho capito Jonathan torna in Michigan da solo forse aveva un volo separato o magari uno era venuto con la macchina che sai che gli americani le fanno le pazzie sì 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 guidare ore 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 in macchina non lo so comunque non tornano tutti e tre insieme in Michigan vanno a bere dopo lo show e poi si separano di nuovo ok comunque però prima di tornare a essere a casa sono andati tutti a bere insieme no cioè Jonathan sembra averla presa bene ci è rimasto un po' male perché non era nessuna delle due che pensava lui si è un pochino vergognato però sembra tranquillo no insomma dopo è andato a bere con gli altri tranquillamente e anche in studio comunque non è che ha reagito male no era solo un po' in imbarazzo ma è stato al gioco anche perché lui era uscito di casa in Michigan dicendo qua vado a scopare cioè nel senso vado cioè ci sarà qualcuno innamorato di me e beh c'era c'era sì ma questo qualcuno voleva legarlo a un'amaca eh ma infatti ma infatti ma le sue alternative di Jonathan erano o la sua ex o la sua collega di lavoro esatto e non era nessuna delle due cioè lui si sarebbe fatto andare bene anche donna poi a dirla tutta ah ok però non era lei non era lei non era lei quindi sembra averla presa bene però durante il viaggio di ritorno ci rimogina ci rimogina ci rimogina e non riesce a darsi pace cioè lui si vergogna tantissimo del fatto che questa roba andrà poi in onda chiaramente non era una trasmissione indiretta queste trasmissioni di solito sono pre-registrate quindi non è che è già andata in onda però lui ha questa angoscia dell'idea che lo vedranno così perché poi gli hanno fatto fermare la liberatoria prima di farlo entrare sul palco eh mica scemi sti produttori eh appunto appunto e quindi niente cioè è proprio l'idea che tutti soprattutto i suoi genitori di cui adesso parleremo lo vedano in quella trasmissione in quella situazione lì veramente lo fa star male quindi lui appena se ne torna in Michigan passa tutta la notte a bere il giorno dopo si sveglia gonfio d'acqua si sveglia già preso malissimo in hangover e tutto il resto esce e trova un bigliettino appiccicato alla sua porta di casa il bigliettino dice se hai bisogno di darti una sistemata io l'attrezzo giusto firmato Scott e a questo punto Jonathan si incazza cioè tutto l'imbarazzo che provava tutta la vergogna che provava in questo momento non prima si tramuta in rabbia accecante anche perché lui viene da una famiglia molto molto omofoba questo è un dettaglio secondo me veramente importante in questa storia in particolare suo padre il padre di Jonathan lo accusava spesso di essere una femminuccia ma non è che sei ortaggio che inizia con la F e tutte quindi lui il fagiolo il fagiolo il fagiolo esattamente esattamente e quindi lui è cresciuto con questa cosa di dover dimostrare la sua mascolinità a suo padre certo sì quindi capite che per lui è ancora più pesante questa situazione che per un'altra persona ok e quindi niente questo bigliettino di Scott basta è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare un vaso che per Jonathan era già colmo e quindi lui il 9 marzo va a comprare un fucile poi va nel trailer park dove abitava Scott giusto bussa alla porta di Scott lui apre senza dire niente Jonathan gli spara due volte al petto proprio istantaneo e poi va via i vicini sentono ovviamente questi spari accorrono subito non riescono Jonathan però va via subito quindi non lo fermano non lo vedono neanche credo però vedono Scott accasciato alla porta di casa sua chiamano il 911 ma purtroppo è troppo tardi Scott è morto 15 minuti dopo la chiamata al 911 arriva un'altra chiamata sempre al 911 questa volta è Jonathan che chiama per costituirsi lui spiega quello che è successo spiega che Scott l'aveva umiliato in diretta nazionale e spiega che quando poi Scott continuava ad insistere anche oltre lui non ce l'ha più fatta e quindi si consegna quindi non è che è una storia dove c'è un grande lavoro di investigazione lui fa e un quarto d'ora dopo che poi in realtà è materialmente il tempo in cui magari è arrivato a un telefono perché è il 95 sì certo e ha chiamato per appunto consegnarsi appena esce questa notizia ovviamente lo scandalo colpisce il Jenny Jones Show come è ovvio e quindi lo show decide di non trasmettere la puntata incriminata quindi noi abbiamo solamente delle clip che poi sono state fatte uscire ma penso per fare sai i soliti documentari per la televisione così quindi non abbiamo la puntata intera di questa cosa abbiamo solo delle clip che sono quelle che vi ho descritto la trasmissione finisce ovviamente in tribunale la trasmissione con l'accusa di negligenza e parliamo un pochino di questa accusa qua poi non vi preoccupate torniamo a Jonathan che però possiamo immaginare come va a finire perché si è consegnato è stato lui non è che ci sono grandi colpi di scena sotto quell'aspetto parliamo un attimo della vicenda giudiziaria del Jenny Jones Show allora perché accusati di negligenza questo perché i produttori allora prima di tutto già fai ubriacare gli ospiti già partiamo male secondo me però quelli che avevano avuto a che fare con Jonathan ok non si erano informati del suo stato di salute mentale prima di farlo venire in trasmissione Jonathan era bipolare ok i produttori non lo sapevano e non hanno chiesto come se non bastasse non l'avevano informato che la secret crush avrebbe potuto essere un uomo o meglio la trasmissione ufficialmente continua a ripetere che loro dicono a tutti i partecipanti può essere sia un uomo sia una donna però abbiamo diverse testimonianze di gente che comunque magari facevano i tirocinanti cioè comunque gente che era presente in queste situazioni che sostiene che sì loro lo dicevano a tutti come frase fatta però in particolare a Jonathan avessero detto ma sì ma certo che è una donna perché Jonathan avendo il padre che aveva era preoccupato di sta cosa quando gli hanno detto la frase standard può essere se è un uomo o se è una donna gli hanno detto no aspettate un attimo è un uomo perché prima non gli era manco venuto in mente e loro gli hanno detto ma va ma va sì sì che probabilmente se l'avesse se l'avesse saputo prima non sarebbe neanche partito non sarebbe andato sicuramente sicuramente visto quanti complessi aveva lui certo ma anche perché comunque scusami apro una piccola parentesi in queste storie qua negli anni 90 ma comunque anche negli anni 2000 adesso sta un po' cambiando la mentalità per fortuna oltre a prendere in giro gli omosessuali si prendeva in giro anche chi era interesse agli omosessuali ah sì eh sì cioè se per caso qualcuno manifestava un interesse verso di te cioè nel senso un gay un omosessuale manifestava un interesse verso di te anche tu eri poi preso in giro e quindi l'imbarazzo non è solo il fatto che una persona del tuo sesso ci prova con te in diretta nazionale è anche il pensiero di tutti quelli che poi ti daranno addosso come ah anche tu sei così anche tu di qua anche tu con la F anche tu ah quello che va con gli F eccetera eccetera cioè quindi c'era anche questa roba qui soprattutto se il padre poi vabbè gli diceva anche tu sei una femminuccia e tutto quanto è questo è questo secondo me noi dobbiamo cioè ci ho tenuto a sottolineare questa cosa del padre perché a volte quando si parla di questa storia a sta parte non si dice e secondo me si spiega molto meno la sua reazione invece lui aveva sta cosa e poi aveva anche comunque degli squilibri chimici no? beh certo cioè quindi si era bipolare è appunto quindi comunque per tutte queste cose che vi ho riassunto adesso lo show viene effettivamente considerato giudicato colpevole di negligenza e viene condannato a pagare 30 milioni di dollari alla famiglia Amager quindi la famiglia di Scott solo che questo verdetto verrà poi ribaltato in appello quindi niente e il Jenny Jones show dopo questo scandalo continuerà per altri 7 anni però quindi sono riusciti a passarla liscia ora a me non piace dare la colpa agli altri cioè secondo me se uno uccide o comunque fa un crimine la colpa è del singolo poi noi in Crime and Comedy vi diciamo tutto il contorno perché vogliamo capire cosa passi nella mente delle persone ma non è una giustificazione quindi io non sono tanto dell'idea di dare la colpa allo show per l'omicidio però effettivamente come cazzo ti stai comportando e sì infatti ci dovrebbe essere della deontologia cioè comunque della deontologia lavorativa negli show ma anche nella televisione spazzatura ci dovrebbero essere dei limiti oltre i quali dovrebbe essere proprio la televisione produttore autore eccetera che dovrebbero dire oltre questa soglia qui non dobbiamo andare perché comunque potrebbe essere pericoloso ma non solo fisicamente per chi partecipa anche psicologicamente perché eh sì certo se non si arriva all'omicidio magari fai scattare quella cosa che la persona entra in depressione o ci potrebbero essere un sacco di altre situazioni comunque non piacevoli assolutamente sì ma poi in questo caso secondo me la cosa importante è che se lui ti fa una domanda e ti dice no aspetta ma può essere un uomo lì lo stai proprio prendendo in giro perché vuoi filmare la reazione ancora così più spiazzata però ragazzi cioè è ovvio che uno non dovrebbe farsi problemi di questo tipo perché chi se ne frega però se per lui era un problema glielo devi dire se per lui è un problema ma per lui è un problema ma infatti ma infatti comunque questo è quello che succede al jenny jones show quindi molto poco sì c'è stato scandalo però poi non ci sono state grosse ripercussioni è vero che jenny jones non ha più fatto niente dopo però comunque lo show è continuato per altri sette anni quindi dovrebbero aver fatto circa undici stagioni quindi direi che si è messo da parte abbastanza soldi per la vita e quindi lei non ha avuto con tutto che lei non c'entra niente perché questi sono lavori fatti dalla produzione chiaramente non è che il presentatore si mette a selezionare la gente per i siparietti no 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 certo sì che comunque probabilmente è dato avanti altri sette anni perché è venuta fuori sa storia e la gente lo guardava sperando che ci fossero altre storie simili perché poi la morbosità del pubblico è quella è vero è vero comunque adesso torniamo a jonathan che l'avevamo sospeso un attimo allora ovviamente viene processato per omicidio e qui c'è l'altra cosa interessante di questo caso perché ha fatto molto scalpore l'approccio della difesa la difesa di jonathan ovviamente punta tutto sul suo stato mentale perché non è che puoi fare altro è stato lui ha confessato è palese non puoi dire che non è stato lui sono stati gli alieni è stato lui e allora usano un metodo di difesa che tra l'altro era già esisteva già negli Stati Uniti adesso non si usa più che però si chiama la gay panic defense quindi la difesa per il panico per il panico gay certo sì in italiano l'ho tradotta malissimo però come si può dire la difesa è così sì sì il panico da gay o da omosessualità esatto esatto e qua ovviamente dato che appunto comunque sono gli anni 90 quindi gli anni in cui molte associazioni cioè i gay pride queste cose qua iniziano a prendere piede un po' in tutto il mondo no chiaramente sono movimenti che sono partiti decenni prima però secondo me negli anni 90 è proprio il periodo in cui si ottengono le prime vere vittorie forse non so e soprattutto il periodo dove inizia a esserci proprio un associazionismo molto forte nel senso che nascono proprio associazioni tipo arci gay queste cose qui no e quindi delle associazioni gay ovviamente hanno protestato contro la difesa dicendo che non ha senso perché essere gay non è una cosa di cui vergognarsi e ora ovvio che non lo è mi sembra palese però nel caso di Jonathan cioè Jonathan comunque si vergognava di questa cosa anche se non dovresti vergognarti no che poi tra l'altro forse non lo era perché qual è il problema poi che molti pensano che Jonathan in realtà fosse gay ed è per questo che ha reagito così male però questo noi non lo sappiamo no in ogni caso per lui comunque era un problema quindi io sono completamente d'accordo col dire che non è una cosa di cui vergognarsi perché non ha senso cioè non è che cioè è una parte di te ma poi chi se ne frega cioè perché ti devi vergognare no ti vergogni perché sei diverso dalla maggioranza ma chi se ne frega però effettivamente cioè secondo me non ha sbagliato la difesa a fare riferimento a questa cosa perché è la miccia che ha fatto scattare sto ragazzo quello sì assolutamente sì ma poi la difesa si è basata sulla mentalità che c'era allora eh sì infatti non si usa più quella difesa infatti non si usa più ma non avrebbe neanche più ragione di esistere ai tempi si usava cioè nel senso si usava ed era anche logico proprio per quello che dicevo prima nel senso che c'era talmente tanto stigma ancora verso gli omosessuali che anche chi si avvicinava o veniva avvicinato poi veniva bollato e diventava oggetto di scherno a sua volta poi esatto io però aspetta ci tengo un attimo a precisare che chiaramente non è che stiamo cercando di giustificare l'omiccia ma queste cose le diciamo sempre credo in comedy cioè noi cerchiamo di capire non di giustificare sì sì esatto esatto sì ma infatti non c'è niente da giustificare cioè ha ucciso punto ha ucciso e in questo caso possiamo anche dire per futili motivi obiettivamente però cerchiamo di capire che cosa è successo nella mente di questo ragazzo che prima di allora non aveva precedenti penali era un bravissimo ragazzo non aveva mai creato problemi cioè vuol dire che veramente lì lui stava probabilmente è gay davvero non lo so non lo so o comunque no e quindi il fatto che suo padre che per lui per tutta la vita ha cercato di dimostrare a suo padre di non essere gay si fidanza con una ragazza perché la ragazza l'ha lasciato mi viene da pensare non lo so non lo so però sia che lo fosse sia che non lo fosse per lui era troppo ed è esploso comunque lui è stato giustamente giudicato colpevole di omicidio però di secondo grado nel senso che negli Stati Uniti il primo grado sarebbe il nostro omicidio premeditato sì volontario premeditato esatto secondo grado invece non l'hai premeditato prima l'hai fatto intenzionalmente ma non l'hai premeditato prima perché in effetti lui ha comprato il fucile e poi è andato diretto quindi stato mentale alterato è stato giudicato così e quindi viene condannato a 50 anni perché siamo comunque negli Stati Uniti da noi non esiste la condanna a 50 anni viene condannato a 50 anni ma con possibilità di uscita anticipata dopo 25 questo perché è stato giudicato colpevole di secondo grado e non di primo grado nel 99 c'è un processo di appello che però conferma la condanna non cambia nulla però nel 2017 dopo 21 anni non 25 lui viene rilasciato e torna a vivere in Michigan quindi può darsi che gli abbiano dato sconti di pena buona condotta queste cose qua e quindi Jonathan è uscito di galera è ritornato in Michigan e io spero che questi lunghi anni in carcere l'abbiano aiutato a stare più tranquillo con se stesso no? sperando che non faccia più niente di folle ma assolutamente anche scendere a patti con se stesso qualsiasi fosse la sua condizione se o un sessuale represso o eterosessuale ma scendere a patti con se stesso o quello che lo circonda perché? sì cioè anche non è che devi vivere per dimostrare qualcosa a tuo padre tipo John Wayne Gacy eh sì esatto 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 perché sennò poi ti compri una casa con tanto giardino con tanto crawlspace mamma mia veramente e vabbè ragazzi questa era la storia del Jenny Jones Show fateci sapere voi cosa ne pensate chiaramente è una tragedia cioè chiaramente adesso Scott e Donna non è che si potevano immaginare di fare chissà quale torto a Jonathan perché probabilmente anche loro non lo conoscevano abbastanza da sapere che lui aveva questi complessi grossi sulla sessualità ma magari neanche lui aveva cioè poteva sapere che aveva dei complessi così grossi sulla sulla sessualità sì può darsi che non lo sapesse a livello conscio eh cioè perché certe cose magari succedono e tu ne hai cioè ti succedono le fai ma tu neanche sapevi di poterle fare in senso non so se si capisce quello cioè magari messo in quella situazione lì hai fatto una roba che tu pensavi che non potresti che non avresti mai potuto fare sono confuso con i verbi comunque sì sì no però dico cioè non è che Scott ha pensato lo faccio andare in trasmissione per umiliarlo no gli amici di Scott dicono che Scott aveva sempre voluto andare in televisione perché ragazzi erano altri tempi eh non è che sono nei social le cose quindi era un po' un sogno andare in televisione ma non fare qualcosa proprio comparire era già chissà che cosa quindi i suoi amici dicono che fosse per quello lui certamente non pensava di fare questo danno anche perché dopo lo show sono andati tutti a bere insieme sì ora il biglietto che lui ha lasciato sulla porta di Jonathan che poi è stata la miccia vera è stata quella l'ho trovato molto fuori luogo però mi viene da pensare se lui ha scritto un biglietto del genere vuol dire che hanno riso e scherzato quando sono andati a bere dopo lo show quindi come poteva immaginarsi no può essere cioè perché se tu scrivi una roba del genere non la scrivi ad uno che ti fa paura no o che ti ha minacciato esatto o che ti ha minacciato anzi lo scrivi a uno che ha il dubbio che magari ci sta eh 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 sì sì quindi quindi niente ragazzi alla fine è una storia che sembra molto breve ma in realtà ci sono un sacco di cose su cui riflettere in questa piccola storia assolutamente assolutamente allora in Italia è successa allora sono sicuro una volta forse due per con stranamore una roba del genere in cui però non l'ho mai visto stranamore è è per chi perché non lo sapesse stranamore era una di queste trasmissioni dove si andava a riconquistare l'amore per tutto cioè ex che andavano o a chiedere ma che concept di merda però lo posso dire eh lo so era una specie di come si dice quello di Maria di Filippi di adesso che hai citato c'è posta per te ma era tutto concentrato sulle copie sull'amore era ah quindi erano ex erano ex o era gente che si dichiarava ah ok 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 quindi chi andava in studio non sapeva chi c'era dall'altra parte della porta e ovviamente poi c'era tutto il video con la spiegazione tutto quanto e poi si incontravano e in una puntata c'erano sono sicuro che c'era una coppia uomo donna che poi lui ha ucciso lei perché sì perché c'era sta cosa qui prossima capsule prossima capsule sì mi devo informare meglio perché è una reminiscenza del passato che mi è venuta in mente mentre raccontavi la storia dicevo ah cazzo è successo anche a Castagna in Italia però è una questione di femminicidio di possesso le solite cose dell'ex che non si rassegna e cose del genere è forse successa anche un'altra volta però non sono sicuro se sono due forse mi ricordo male una sono sicuro due non non ci mettono la mano sul fuoco beh ragazzi adesso ci diamo un occhio vediamo se si trova qualcosa perché comunque sono storie vecchie quindi non è detto però adesso adesso controlliamo va bene ragazzi questa in teoria era l'ultima capsule di questa tornata di capsule quindi adesso per un po' ritorneremo con le puntatone e per i Patreon ritornano gli overtime i Patreon sanno di cosa stiamo parlando e basta vi diamo appuntamento a domenica prossima o in qualsiasi giorno vogliate ascoltarci esatto esatto intanto buttate anche un occhio un orecchio ha buttato un orecchio il mercoledì su Spotify che sicuramente uscirà qualcosa intanto poi volete parlare di questa di questa storia lasciate un commento sotto appunto la puntata di Spotify o altrimenti ci sono i nostri social che sono cremeandcomedy.podcast su Instagram se no c'è il gruppo di Telegram che è cremeandcomedygroup se no c'è basta c'è il sito per vedere perché forse 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 arriverà qualche data estiva forse forse stiamo aspettando i verdetti quindi per ora non sappiamo ma insomma seguiteci tenetevi aggiornati se non l'avete già fatto metteteci il segui su tutte le piattaforme di podcast oltre che ovviamente sui social e votate 5 stelle se potete che ci aiuta e condividete le nostre puntate esatto condividete direttamente ad esempio da Spotify le condividete direttamente sui social che è una cosa che ci aiuta tantissimo stranamente boh guardano ste cose qua e niente quindi i misteri delle metriche comunque grazie mille ragazzi alla prossima ciao ciao Grazie a tutti